Ripetutamente annunciato dall'inizio di questa puntata del sabato la presenza del professore Di Freddi, adesso in chiusura, diciamo, nella parte finale, siamo riusciti ad averlo collegato audio e video, evidentemente in questi giorni la tecnologia mi ha preso di mira. Allora, professore Di Freddi, siccome so che lei ha seguito però tutta la puntata, ci ha ascoltati, una sorta di cammeo le facciamo fare. Allora, rispetto ai temi che abbiamo affrontato, l'Italia è un paese per giovani sì o no, per anziani sì o no, gli egoismi generazionali, ci dica un po' cosa ne pensa di tutta questa discussione che è venuta fuori? Ma mi sembra di aver sentito molte opinioni, non tutte naturalmente, un po' provinciali, come se il rimanere in Italia fosse il fine ultimo e l'andare all'estero invece è semplicemente quasi una tragedia, addirittura, mi sembra che ci sia un'inversione tra i mezzi e i fini, si dice i giovani vanno all'estero per trovare lavoro e il fine appunto è trovare il lavoro e l'andare all'estero è semplicemente il mezzo per ottenerlo, mentre io invece invertirei questi due termini e direi che in realtà l'andare all'estero è il mezzo che ci permette, trovare lavoro da qualche parte è il mezzo che ci permette di andare all'estero, andare all'estero è liberarsi in realtà dai paraocchi della famiglia, della nostra città, del nostro Stato, addirittura anche del nostro continente europeo e vedere il resto del mondo. Io personalmente credo che in parte sia una questione anche caratteriale, quando ero giovane ad esempio non aspettavo altro che di partire e se ci fossero state le possibilità che ci sono oggi per esempio di andare a fare il quarto anno delle superiori all'estero ci sarei andato di corsa, appena ho potuto prendere il borso di studio per il postdoc sono stato due anni negli Stati Uniti, due anni nell'Unione Sovietica, ho insegnato tra gli Stati Uniti e l'Italia pendolando per 18 anni, sono stato in Australia per esempio, in Nuova Zelanda, in Argentina, cioè vedere il mondo è in fondo uno dei fini della nostra vita, bisogna appunto conoscere, siamo uomini di questa terra, non siamo uomini italiani o europei e meno che mai cittadini della nostra città, quindi io incoraggerei i giovani ad andarci, ma non andarci con la tristezza nel cuore perché dice non possiamo trovare lavoro qui, ma andarci perché è un'esperienza fondamentale che ci permette di capire molte cose anche di noi stessi, perché è molto più facile vedersi dall'esterno che non dall'interno, i problemi, le caratteristiche positive e negative si osservano meglio quando si sta fuori, quindi io farai proprio un appello, andiamo all'estero ma andiamoci felicemente e non invece con la tristezza nel cuore. Mi dice proprio un'altra cosa rapidamente, le chiedo questo, siccome lei è un fiero avversario della stupidità, come pure il suo dizionario per Rizzoli, mi mette insieme, le voglio definire così, due perle di stupidità che lei ha sentito, che ritiene tali rispetto alla discussione, al dibattito su giovani e anziani, per esempio in Italia? Anche questo degli anziani sì, in effetti l'ho sentito, c'è anche lì un'inversione tra mezzi e fini, mi sembra che gli anziani però in parte lo facciano con uno spirito anche più costruttivo, cioè in fondo, vabbè, forse andare in Bulgaria non so se sia effettivamente un grande obiettivo, però per esempio andare in Giamaica o andare, io personalmente ad esempio preferirei andare nel Terzo Mondo, ad esempio in India, in paesi che sono ricchissimi di tradizioni eccetera, con il vantaggio per l'appunto di poter utilizzare la propria pensione in una maniera diversa. Qualcuno si lamenta, dice ma in fondo hanno avuto dall'Italia e dovrebbero rimanere qui, ma questo mi sembra di nuovo molto mio, per quale motivo un pensionato che ha una pensione di una certa entità deve vivere magari peggio solo per stare in Italia, in base non si capisce bene a quale attaccamento nella sua terra, quando invece può vivere meglio fuori, si diceva anche per esempio a proposito dei risparmi, ma i risparmi devono essere usati in una maniera sensata, se uno li deve sprecare semplicemente per metterli in circolo, che è quello che poi tra l'altro le banche incitano a fare, a non tenersi i risparmi lì fissi, bensì investirli in altre cose, lo si fa se ci sono dei motivi positivi, se non ce ne sono sarebbe stupido per l'appunto non farlo e sprecare quello che si è messo da parte o quello che si è guadagnato nel corso di 40 anni, anche perché poi si dice i pensionati, spesso sono baby pensionati, però molti pensionati hanno lavorato 40 anni per l'appunto come si doveva, si sono guadagnati questa pensione perché non la devono spendere vivendo magari meglio di come vivrebbero qui in Italia. Attenzione che Martone la chiama dinosauro poi, è un pochino sì.